se i ragazzi sono benvenuti ad un video oggi sono venuto su Dauntless per fare la scena a caos uuuuh allo suicidio ok sarà un casino che dovremmo prendere il bottino epico, mi manca una radice di ferro ce la potremmo fare cosa sta succedendo ma che sta succedendo a sottotit probabilmente vabbè lo posso fare anch'io guarda aspetta ma che sta succedendo metti qui sotto che stanno bombardando male aspetta aspetta a colpi di bomba a colpi di bomba aspetta ma che sta facendo ma che sta facendo sbagliata sbagliato il lancio gramato vabbè noi ci vediamo al video ci siamo nell'ascesa ed stiamo con altri tizi visto che abbiamo rivolgiato sempre oggi e tra i livelli non ce la facevamo ma comunque prima di iniziare con il minion time volevo congratulare poi fai leon con alba power visto che momentanamente sono in top 100 nella prova indomabile quindi voglio congratulare se vogliamo precisare top 72 ma anche se non si sa momentanamente se cambieranno andranno a ricompliprovarla comunque adesso dovreste vedere in questo momento che top sono sullo schermo quindi direi di darci al nostro minion time come dice non è bello infatti ora sarà il minion time anche bello comunque io avevo ancora bisogno di guardare una volta per l'incorso e la prendo avanti sinceramente mi senti? perdon poi poi mi senti? mi senti? non mi stai preoccupando sinceramente beh arrivami se tu non parli mi posso fare il minion time oh no non mi stai preoccupando no 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 ah se non ho trovato oh no vabbè non mi stai preoccupando se tu non parli non mi stai preoccupando no no mi stai pagando non ci posso perdere si ecco è che stai giù Grazie Grazie a tutti Alla prossima 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 Alla prossima